Non è un momento positivo per la Scandone e non solo perché è arrivata la quarta sconfitta consecutiva. Il vento della crisi comincia a soffiare in casa Vellino, le avvisaglie già c'erano state, ma ora dopo il K.O. interno contro Varese le sensazioni che il vento si stia alzando sono maggiori. Il K.O. della Sidigas ci sta a tutto. La squadra è stanca fisicamente, mentalmente, con giocatori sconnessi ed altri che vorrebbero giocare ma che fanno in ed out dal parquet. Contro l'Open Job Metis abbiamo ammirato il meglio ed il peggio di Avellino di quest'ultimo periodo. Una squadra che ha grande talento ma che probabilmente non lo sfrutta a dovere. Sa fare 49 punti in un tempo, gli stessi segnati in 40 minuti contro Venezia in Champions, per poi segnarne 3 in 7 minuti e mezzo di terzo quarto, ai quali vanno aggiunti anche 7 palloni persi. Troppi up and down per gli avellinesi, che non sembrano avere mezze misure. Non li ha neanche coach sagripanti. Da quando c'è Logan, il tecnico ha utilizzato nei finali di partita sempre quintetti differenti. Solo una volta l'americano lo abbiamo visto in campo nel finale a Brescia. Se si sono spesi tanti soldi per un elemento come l'ex Sassari, forse l'intenzione era di tenerlo in campo nei momenti decisivi. Ma non è stato così. La gestione dei possessi di Domenica contro Varese, così come in altre gare, lascia molto a desiderare. La confusione coinvolge tutti, perfino il loccondottiero Irpino, che sta vivendo un momento molto difficile. La squadra c'è, è forte, ma i componenti del puzzle sono da mettere insieme. Sassari Panti deve trovare la squadra e non deve utilizzare sempre gli alibi per giustificare le sconfitte. Con Varese la Scandone ha perso non solo per l'assenza di Cusin, ma perché gli avversari sono stati i più bravi e perché Kaia ha preparato meglio la partita rispetto al collega. Poi ci sono stati gli episodi. Varese è stata fortunata, ma è stata premiata per l'audacia. Parte del pubblico domenica sera ha fischiato la squadra. Dai fischi si capisce chi è con noi e chi contro, ha dichiarato Sassari Panti. Ma non è così. Non è così che funziona. Non è stata un'uscita elegante quella dell'allenatore. Il pubblico fischia perché sa che questa squadra, con o senza Cusin, può fare molto meglio. E allora Pino, tocca a te allenarla per farla rendere al meglio.